Salve a tutti, bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come estendere così la memoria RAM sul telefono quindi in questo caso andiamo un attimo nelle nostre impostazioni solamente alcuni telefoni hanno questa funzionalità di estendere la propria memoria RAM quindi in questo caso andiamo a scrivere memoria qua sopra quindi se tu hai comprato un telefono che ha 8 GB di RAM ma ti ritrovi con 2 o 4 GB di RAM è possibile estendere la memoria RAM qua sopra estensione di memoria, quindi in questo caso io me lo sono ritrovato su 4 GB di RAM quindi come puoi vedere crea RAM aggiuntiva occupando spazio di archiviazione una volta selezionato così gli 8 GB non ti resta che riavviare il sistema del telefono e una volta fatto hai finito, non devi fare più niente questo era il procedimento su come estendere la memoria RAM sul telefono quindi se questo video è stato utilissimo su come estendere la memoria RAM sul telefono iscriviti, lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao